salve youtube benvenuti in questa nuova puntata di dungeon keeper nello scorso episodio abbiamo trovato un po di oggetti speciali e abbiamo trovato finalmente i nostri avversari cioè gli eroi però io comincerei ad andare a vedere qua questa zona qua con i punti iniziamo a capire un attimo vediamo mentre il problema muo' è posta gà vediamo le trappole qua allora vediamo un po di inca hmm un po di inca un po di inca un po di inca un po di inca ok siamo riusciti a liberarla ora andiamo qua i nostri rai a sfondare questa porta e qua c'è qua dietro ok se era così ben protetta ed è pure una porta magica quella di ultimo di ultimo livello delle porte ci sarà un motivo perché gli eroi la tengono che tirano così al sicuro quello che c'è là dietro ok se stanno bene i tempi portiamoli a casa anzi allora su oh torniamo là che è? oh abbiamo trovato il livello segreto signori forza imp andiamo a prendere quella quel coso oh 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 vabbè segnanti così consumiamo tutti i nostri soldi oh 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 la trappola si scaricherà la trappola si scaricherà oh la trappola oh 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 ottimo oh oh se non mi ricordo male il vampiro gli sta un po' sulle balle lo stregone bisogna stare un po' attenti mettere casa e iniziare subito a addestrarlo ok visto che i soldi non sono eterni cominciamo lo segreto lo prenderemo dopo adesso ho sempre i miei piazza però buono diciamo che se stai in tre è meglio allora prendere possesso in quella zona your creatures are under attack perfetto un bel ponte cominciamo a invitare i nostri amici a giocare monibigliosi all'attacco uccidete non voglio prigionieri però sono nettamente più forti di loro perfetto è il lavoro è il giorno di Eh, non so Sarebbe da costruire una stanza del tesoro avanzata per distruggere quella cosa Eh già Parza ragazzi, su Marza con quell'ora, dai Eh no, possono anche creare Impson Sono cinque san troppo Ma in quanto che gli imp pavimentano io inizierei a usare le mie creature perché sennò qua non finiamo più Oh qualcosa di grosso finalmente alla loro portata Andare a combattere da soli è tanto inutile Aspettiamo che Che escano così li distruggiamo anche le loro stanze Oh cos'è Adesso Red Creator, non mi piace Oh, il signor Demo è brilloso perché mi salgo un attimo di impino Uscite eroi, uscite Mi aspetto una simpatica sorpresina E non do anche i ragni, va Giusto, giusto far compagnia Ok 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 La bla Questa, quella roba di quando un quero cosa sia, addirittura e via La uso anche subito Ti ho chiesto un'estima iniziale! Portalo in una stanza della... ...della liberia, perché adesso quella zona qua... ...la seguiamo via, che ci serve... ...ci servono soldi... ...la porta è stata manufattura... ...la porta è stata manufattura... ...la porta è stata manufattura... ...so be' Ah beh, ora è finito... ...lo giudiamo lo spider... ...non è un problema... ...allora... ...un po'... ...di qua c'è qualcosa... ...no... ...ma hai ragione... ...che non è big enough... ...diamo a piazzare un po' di porte... ...la porta è manufattura... ...che non ci pensiamo più... ...alora... ...la porta è una piccolina, dai! ...la porta è manufattura... ...lostro amico qua intanto come sta? ... ...che se quale è quello di Hitchworth... ...lei! ...ca... ...venga qua, va... ...vendiamo se possiamo convertirla! ...la porta è manufattura... Ok, adesso cominciamo a convertirlo, non so, se lo stassi diverte come una bambina. No, 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 tengo problema, ragazzi. Metto porte in giro per tutta la Lildangion, non tengo problema. Forza i picconiti, dai. Eh, che lui stiamo arrabbiando, eh, lo so. Oh, boh, dai. Intanto che questi sfaticati di Imp finiscono di zappare questo punto di scena interrogativo. Il video di oggi può finire qua, il vostro video è tutto, bye bye. Ciao. Ciao. Grazie a tutti